E non per mere ragioni politiche, ma per una valutazione profonda di fatto di merito su questo disegno di legge e su quello che esso sottintende in termini di rapporti di libertà e di civiltà lungo il filo di un ragionamento che ha visto nel passato il riconoscimento del divorzio, dell'aborto e così via. Io reputo che noi scriviamo una pagina significativa e positiva del nostro Parlamento al di là di dialettiche politiche sulle quali altri colleghi si sono soffermati ma che sono sopra avanzate da un punto fondamentale, la tutela dei diritti di una minoranza. La tutela dei diritti di una minoranza deve essere l'impegno fondamentale, in primo luogo, di chi si reputa maggioranza. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Piras, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io sono fra quelli che deve ammettere che non è completamente soddisfatto da questa legge. Siamo però anche fra quelli che oggi devono prendere atto di alcuni stati d'avanzamento prodotti rispetto alla situazione passata, ma non solo perché la politica, come si dice per scuola di politica, si fa nelle condizioni date, ma anche perché in questi mesi, oggi ne abbiamo avuto diversi estratti significativi in aula, si sono mosse delle forze avverse piuttosto consistenti, potenti, sono stati agitati spettri, paure ancestrali, sono state rappresentate in maniera farsesca e caricaturale alcune situazioni. Si è fatta una propaganda di quelle che ha sconquassato il Paese e non ha consentito per nulla a questo dibattito, che doveva essere un dibattito di civiltà, che doveva essere un dibattito che guardava all'Europa, che guardava ad altri paesi del mondo, a cui spesso guardiamo per altre ragioni. Si doveva guardare probabilmente lì, ragionare in maniera serena, invece è successo altro, fra manifestazioni più o meno di massa, mezzi di comunicazione di massa, che hanno fatto una violenta propaganda contro il riconoscimento dei diritti pieni, completi, alle coppie dello stesso sesso. L'Onorevole Campana, nella sua relazione illustrativa alla legge che abbiamo ascoltato qualche ora fa, ha utilizzato termini come emozione, come orgoglio, come gioia e come commozione. Allora, come ognuno sa, si tratta di termini e categorie che non hanno a che fare con la sfera del diritto, hanno a che fare piuttosto con la sfera dei sentimenti, con la dimensione relazionale, individuale, così come, più in generale, l'amore che si prova per una persona o per il proprio figlio. Di questo avremmo voluto che si parlasse davvero in questi mesi, dell'essenza fondamentale di un'unione, del requisito fondamentale sul quale esse si costruiscono, sia quelle eterosessuali che quelle omosessuali, della caratteristica essenziale che dovrebbe segnare una relazione fra genitori e figli. E avremmo voluto essere emozionati anche noi oggi, forse un po' di più di quello che comunque siamo, se non fosse che si è mediato, come diceva l'onorevole Locatelli, sulle mediazioni, si sono fatti compromessi sui compromessi, e se non fosse che noi siamo fra quelli che ritengono che sui diritti non bisognerebbe mai mediare. Non è la nostra società ad essere arretrata, io questo realmente non lo credo. È ancora una volta la politica ad essere un passo indietro. Ed è forse la parte più arretrata di questa società che è stata in grado, anche in questa discussione, di essere più rumorosa di altri, più aggressiva di altri, più offensiva di altri. Si è discusso in questi decenni, anche questo lo ricordava la collega Locatelli, di Dico, Cux, Pax, Didorè, si sono inventate 10.000 formule, pur di non chiamare le cose come stanno, pur di non prendere atto della realtà, pur di non prendere atto di rapporti di amore che già esistono, di convivenza che già esistono e che andavano normati per legge. Noi, molto più banalmente, avremmo voluto che si chiamassero matrimoni. Avevamo presentato una proposta di legge in questo senso, perché pensiamo che a parità di situazione vada anche riconosciuto, a parità di diritti e anche a parità di doveri, cosa che a me non si dice, ma che insomma in un vincolo matrimoniale probabilmente sono anche il prevalente. Come del resto già accade in Irlanda, in Spagna, in altri paesi del mondo, dove io non ho notizie supportate da dati statistici, evidentemente l'onorevole Molteni ha qualche dato statistico che io ignoro, ma sono anche un appassionato della materia, non ho notizie che le unioni, i matrimoni fra persone dello stesso sesso stiano generando uno sconquasso tale nella società o nelle famiglie tradizionali, tale da mettere a rischio la tenuta e il funzionamento di quelle società. Ma evidentemente ci fondiamo su modelli statistici diversi. Ma non è la religione cattolica che dice che tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio. Non è la vostra, dovrei dire, che non è la mia religione a dire che tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio. Allora se così credete, o se così crediamo, chi per le sue convinzioni laiche e altri per le proprie convinzioni religiose, allora saranno forse le leggi che rendono diversi gli uomini gli uni dagli altri. Perché dovremmo? Diciamo allora la verità su quello che pensiamo. Diciamo la verità che esistono, secondo alcune persone, esistono forme d'amore di serie A e forme d'amore di serie B. Che esistono alcune cose che evidentemente ci fanno schifo, ma oggi non riusciamo a dirlo, perché è fonte anche di disapprovazione. Che si è omofobi senza ammetterlo, che si è discriminatori senza volerlo dire dichiaratamente. E tristemente appunto dobbiamo ragionare e anche prendere atto oggi, prendere atto in queste ore, che c'è chi ha operato possentemente perché ancora così fosse, perché ancora ci fossero livelli diversi di riconoscimento ai sentimenti delle persone. Si dice l'amore è la cosa più bella che ci sia al mondo, evidentemente l'amore di un certo tipo è considerato tale, l'amore di un altro tipo è considerato in maniere diverse. Allora, a ragione Pia Locatelli ancora, oggi la cito per la terza volta, questa è di nuovo la mediazione di una mediazione, il compromesso di un compromesso. Gli stessi che dicono di voler difendere la famiglia, di voler difendere i bambini, sono gli stessi che hanno manifestato a più riprese nelle più diverse sedi in questi mesi, affinché i bambini non avessero una famiglia, possibilmente restassero in un istituto e hanno manifestato affinché, diciamo, delle famiglie nuove non si creassero. E coloro che manifestano contro i diritti altrui, secondo me, sono la parte peggiore di questa società. La parte probabilmente insana, perché ha paura, diciamo, che venga toccato qualcosa, che venga alleso qualcosa, probabilmente peccano di un'insicurezza che loro stessi non sono in grado di ammettere. Dove c'è scritto che una famiglia si deve necessariamente fondare su un uomo, su una donna e figli? Dove c'è scritto che due persone dello stesso sesso non possono crescere un bambino? In quale legge divina c'è scritto? Oppure anche in quale trattato di pedagogia che sia stato scritto dopo il 1300? C'è scritto una cosa di questo tipo. Quante sono le famiglie monogenitoriali che già esistono in questa società? E quindi non sono neanche quelle famiglie tradizionali. Quanti sono i bambini che crescono con la nonna o con la zia? O con il nonno e con lo zio? E quindi neanche quelle sono famiglie tradizionali. Quanti vengono abbandonati dalle cosiddette famiglie tradizionali? No, non si è genitori solamente perché si genera. Non si è padri né madri solamente perché si ha dei figli. Si è genitori solo dopo, al saldo di una vita, dopo che si è verificato se si è stato in grado di crescere un bambino consapevole e cosciente, capace di misurarsi con un mondo grande, terribile e complesso. E non lo dice un trinaricciuto sostenitore di una improbabile e fantomatica teoria gender o di un fantomatico e improbabile complotto gender. Ma lo dice Ettore Cannavera, prete sardo, che ogni giorno opera sulla frontiera dei diritti, quelli dei migranti e quelli dei rifugiati, quelli dei carcerati e quelli delle coppie dello stesso sesso. Situazioni diverse, ma non casualmente, accumunate da discriminazioni simili, dai medesimi pregiudizi e dai medesimi stereotipi. Difensori della famiglia e del futuro dei bambini che si ergono a censori degli orientamenti sessuali altrui, attaccati alla toppa della chiave delle camere da letto altrui, che si ergono a supremi censori e guardiani dei corpi altrui, salvo poi voltarsi dall'altra parte per le decine di casi di violenza che avvengono fra le mura domestiche, per la precarietà lavorativa ed esistenziale che realmente fracassa le famiglie e i progetti di vita, che preferiscono che i bambini restino negli istituti senza amore e senza genitori. Pensavamo si potesse essere più coraggiosi. Questa è la verità. Unire le forze progressive, progressiste di questo Parlamento. Non sacrificare ancora i diritti delle persone alla tenuta della maggioranza. Per un attimo ci è sembrato possibile, ma è stato solamente un attimo. E allora ragioneremo, lo dico in conclusione ancora in queste ore, perché dobbiamo riconoscere i punti positivi e dobbiamo fare il saldo di quelli, diciamo, che sono mancati. Dobbiamo riconoscere gli avanzamenti, quelli anche che ci ascriviamo come frutto di una nostra battaglia politica e culturale condotta in anni di militanza politica e di attività politica. Una battaglia che siamo ancora pronti a proseguire, e questo è forse l'altra cosa che vorrei lasciare più di altre ai verbali di questo dibattimento in Aula, è una battaglia che siamo ancora pronti a proseguire nella società ed anche fra queste mura. Siamo disponibili, se si parlerà in futuro delle adozioni per le copie dello stesso sesso, siamo disponibili a ragionare con chiunque su questo terreno voglia aprire una nuova frontiera di civiltà, affinché in un prossimo futuro si possa dire che in Italia esistono diritti pieni, senza discriminazione di sesso, senza discriminazione di razza, senza discriminazione di condizione sociale e senza discriminazione di orientamento sessuale. Grazie, iscritti a parlare l'onorevole Marzano, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Come ha detto all'inizio di questo dibattito la relatrice della legge, l'onorevole Campana, mentre il matrimonio è ancorato all'articolo 29 della Costituzione, le unioni civili sono ancorate all'articolo 2 e all'articolo 3. Ecco, signor Presidente, il problema della legge che arriva oggi in Aula è tutto qui. E perché è tutto qui il problema della legge che arriva in Aula? Perché l'unione civile tra persone dello stesso sesso viene istituita attraverso questa legge come una specifica formazione sociale, ripeto, specifica formazione sociale. Negando così alle persone omosessuali che lo vorranno.